Maestro, quanto è importante sostenere i giovani e sostenere l'Europa? Io sono venuto proprio per dare un ringraziamento a questi giovani che si stanno impegnando in questo tipo di lavoro. È fondamentale. Io è chiaro che non sono venuto per dire che poterò, poterò, perché è l'Europa. E abbiamo bisogno di riconquistare fiducia, mercati, cultura, parola che non sento tanto spesso per poter veramente come una volta collaborare anche per il cinema. Non si fanno più che produzione, purché ci sia l'Europa. Perché? E ci sono diverse ragioni che vanno capite, che vanno sperimentate. Insomma, bisogna riaprire il cinema, bisogna ritrovarsi. Per fare questo bisogna ritrovare il bel cinema di una volta con la collaborazione. Caprisi che qui da noi venivano De Longa, Trinigiano, Noirea. Stavano tutti in Italia a lavorare, i nostri a lavorare, erano momenti diversi. Poi dopo la televisione ha condotto tutti verso l'avanti della televisione, ruotando il cinema, riempiamo di nuovo il cinema con la passione e soprattutto capendo che bisogna vivere insieme, promuoversi insieme, protestare insieme, applaudire insieme. Però ritornare ad essere delle persone che amano la parola, che si chiama cultura. Senta, se avessi avuto qualche anno in meno, sarebbe stato in mezzo a questi giovani a promuovere il voto all'Europa? Io, è come se ci fossi. Purtroppo ho un po' di problemi, quindi dico la verità, dovuti anche al fatto che gli anni passano, ma ci sono, al cuore ci sono, tant'è vero che con fatica mi sono venuto oggi qua alla Lui, per conoscerti e segnati la mano e ringraziani soprattutto. Grazie.